Buonasera, ci ritroviamo questo venerdì 15 febbraio insieme per parlare di economia, un nuovo appuntamento il nono di questa stagione con Inumbria e stasera in questa anteprima andiamo subito a presentare l'ospite di questa puntata, parliamo di economia, parliamo di impresa e lo faremo con il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni, buonasera grazie per essere con noi, ospite insieme ad alcuni colleghi della stampa e del mondo accademico a partire, lo saluto subito dal professor Andrea Cardoni, Dipartimento Economia aziendale dell'Università di Perugia, buonasera, accanto a lui salutiamo il responsabile del dorso Umbro del messaggero Italo Carmignani, buonasera, tra poco ci raggiungerà il collega Giuseppe Castellini del nuovo Corriere Nazionale ma noi intanto apriamo subito presentando proprio l'ospite di questa serata Antonio Alunni in questa scheda con Noemi Campanella. Sostiene che il capitale umano sia il motore propulsore del mondo dell'industria e dell'impresa in generale, stiamo parlando di Antonio Alunni che è anche il traghettatore dell'economia regionale verso industria 4.0. È arrivato alla presidenza di Confindustria Umbria nel 2017 succedendo ad Ernesto Cesaretti, suo il compito di diffondere l'orizzonte della nuova rivoluzione industriale, di una produzione e di una distribuzione più smart, vale a dire più intelligente, veloce ed efficiente, grazie ad un mix tecnologico di automazione, informazione, e connessione e programmazione che coinvolgendo il sistema manifatturiero in tutte le sue forme introduce nuovi concept di sviluppo e di servizio. Io penso che le aziende hanno un obiettivo, lo dico da imprenditore e da industriale, permettetemi è quello di produrre ricchezza, la ricchezza significa profitto, usiamo adesso questa parola che semplifica, ma la ricchezza si produce non solo con un risultato economico positivo, ma quel risultato permette di valorizzare le persone che ci lavorano, formarle, sviluppare tecnologie, innovare, creare posti di lavoro, perché in Umbria abbiamo un problema, non abbiamo posti di lavoro per quanti ne servirebbero. Classe 1971 è laureato in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma. Il suo mondo è l'impresa, nel 1996 ha iniziato a svolgere la propria attività lavorativa in Fucine Umbre, azienda produttrice di componenti stampati a caldo in materiali metallici, specializzata nella realizzazione di particolari ad alto contenuto tecnologico destinati prevalentemente al settore aeronautico operante nei mercati nazionali ed internazionali. Per alunni l'industria e l'impresa in generale non esistono e non agiscono nel vuoto. Il loro successo dipende in modo essenziale dalla disponibilità di fattori di produzione di alto livello. Il primo di questi è senz'altro il capitale umano, ovvero le persone concrete in carne ed ossa che lavorano nelle fabbriche e nelle imprese. La formazione diventa essenziale, non solo quella che parte dal basso e ricordiamo che fanno riferimento a Confindustria, la SFCU e anche i TS Umbria Academy, ma anche per i futuri manager. Ecco l'idea tra l'altro lanciata durante l'ultima assemblea, una scuola per diventare imprenditori. Alunni ha un curriculum di tutto rispetto, presidente giovane del maggiore sindacato degli industriali. Ricopre i seguenti ulteriori incarichi, presidente dell'Umbria Digital Innovation Hub, vicepresidente della Federazione e aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza, l'AIAD, dal 2017, membro del Consiglio Generale di Confindustria Nazionale, membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Carit, consigliere della Banca d'Italia, succursale di Perugia, dal 2017. Per alunni il primo obiettivo di Confindustria è quello di fornire agli associati strumenti adeguati a favorire la crescita. Poi ritrovare un rapporto virtuoso e diffuso con il sistema bancario, condizione necessaria per lo sviluppo dei progetti industriali e per la formazione di nuovi imprenditori, promuovere e diffondere in tutto il paese la cultura d'impresa. Antonio Alunni, ecco qua abbiamo presentato il presidente di Confindustria Umbria, ospite di questa nostra nona puntata. Presidente, nella scheda abbiamo fatto riferimento con Noemi Campanella anche ad un passaggio saliente della sua relazione all'ultima assemblea all'IRIC di Assisi, la presenta anche il presidente Boccia, quello di creare una scuola per diventare imprenditori. Lei l'ha di fatto battezzata così, che è una prospettiva da un lato ambiziosa, dall'altro interessante per un'area come l'Umbria che in genere passa per essere territorio dove c'è poca cultura d'impresa. Lei è la scuola dove l'ha fatta, perché potrebbe portare la sua esperienza. Una scuola serve creare una scuola o come dire, il terreno, la scrivania e l'azienda, il profumo dell'azienda che lavora è forse l'abitat ideale? Guardi, io sono stato molto fortunato, perché io vengo da una famiglia di imprenditori, quindi io sono la quinta generazione che fa impresa e quindi ho vissuto una condizione assolutamente unica, quella di poter nascere e crescere in un ambiente in cui si è sempre parlato di impresa, di industria, di intrapresa anche se vogliamo, che poi è il cuore del problema. Quindi occorre far sì che non ci siano solamente i figli degli imprenditori che possano fare questo mestiere, perché sennò sarebbe un capitale che nel tempo si va a ridurre per definizione. Il problema nostro in Umbria è quello di far nascere nuove imprese. Prima, penso, il primo tema è quello di sviluppare e far sì che tutto il potenziale possibile possa svilupparsi di quello che già c'è e c'è tanto. Però manca, manca ancora, manca ancora un pezzo per assorbire quel lavoro che ancora non trova nella domanda attuale una risposta. E quindi bisogna creare una nuova classe imprenditoriale, perché se ci sono delle caratteristiche che sono proprie di ogni persona, in primo luogo lo spirito di intrapresa, quello di correre il rischio, la fatica, tutte queste cose, va benissimo. Però l'impresa e fare l'imprenditore è anche un mestiere su cui occorre formarsi. E non è qua un tema solo di managerialità, per questo c'è l'università, ci sono le scuole che già fanno quello che devono fare. Ma l'esperienza che un vissuto imprenditoriale può dare, l'esperienza sono errori. Quindi quello che mi hanno passato i miei, mio padre e mio nonno, sono le loro esperienze, i loro errori e io sto cercando di non ripeterli. Di formazione parleremo spesso stasera, perché avremo una puntata molto ricca, una puntata caratterizzata da una prima parte proprio col Presidente Alunni, una seconda parte parleremo anche di un'esperienza diversa, sempre nella nostra regione, lanciata in questi giorni, di crowdfunding per delle start-up e chiuderemo quasi ad anello proprio parlando di formazione con un'esperienza che vede presente anche Confindustria, che è l'ITS. Quindi di carne al fuoco ne avremo sicuramente tanta e ne parleremo, come detto, con i colleghi della stampa ai quali si è giunto, lo salutiamo, Giuseppe Castellini, nuovo Corriere Nazionale. Buonasera, ovviamente grazie per essere di nuovo con noi. Noi andiamo in sigla e poi torniamo con Antonio Alunni e con i contributi degli altri ospiti. In Umbria non ha puntata con il Presidente di Confindustria Umbria, con tra gli ospiti il Professor Andrea Cardoni, docente di Economia Aziendale Università di Perugia, che vado a coinvolgere. Prima di sentire, tra l'altro, un'intervista proprio di oggi, il Ministro delle Infrastrutture Toninelli era in Umbria, al suo sopralluogo sull'E45, sappiamo un vulnus che ormai da un mese la nostra regione, tra i tanti, si trascina nel mondo un po' difficile delle infrastrutture. Io le chiedo, Professore, dal suo punto di vista qual è il gap principale che questa regione deve colmare, non dico per stare al passo col treno del nord-est, ma per non farsi trascinare troppo nei trend di sviluppo delle regioni meno avanzate, dove purtroppo, vedremo qualche numero del PIL, si sta andando. Sì, la premessa per anche rispondere a questa domanda, credo sia legata un po' a quello che è lo scenario generale, che comunque non possiamo dimenticarci, cioè qualcosa che l'Italia, l'Umbria e il mondo sta vivendo, credo, ormai da almeno 15 anni, che è un'estrema polarizzazione, per cui ci sono situazioni e ambienti e aziende che vanno molto bene e situazioni e aziende e ambienti che vanno meno bene. Per cui, di fronte a questo, rispetto ai gap, che mi chiedeva, chiaramente non si può rispondere a questa domanda senza considerare questo fatto, perché alcuni gap l'Umbria in qualche modo li ha sempre avuti, per cui diciamo storicamente è stata una regione con una bassa strutturazione, per cui con qualche difficoltà anche nelle infrastrutture. Il sistema produttivo si è soprattutto concentrato su settori a medio-bassa produttività, per cui tutto questo, peraltro, una volta contribuiva a essere un'opzione competitiva, cioè l'Umbria in qualche modo rimaneva piccola, quasi come scelta, perché in questa piccolezza poi riusciva anche ad ammortizzare gli andamenti che erano positivi e negativi e si vedeva anche dai dati, per cui l'Italia andava bene, l'Umbria andava un pochino meno bene, l'Italia andava male e l'Umbria andava un pochino meno male. Attenuava gli effetti generali? Esatto. Oggi non basta più? Purtroppo non basta più, ormai da almeno 6-7 anni, da quando c'è una crisi sicuramente più severa, l'Umbria con i suoi gap rischia non una bassa strutturazione come opzione competitiva, ma una destrutturazione, che significa uno svantaggio competitivo ricorrente e strutturale, per cui in questo senso concordo con le sfide lanciate dal dottor Alunni sul capitale umano e le infrastrutture. Infrastrutture la vedo innanzitutto come sicuramente una prima grande sfida di capitale intangibile e su quello magari ne riparleremo dopo, perché poi dopo anche creare questo capitale intangibile nelle aziende credo sia una grande sfida, perché c'è da appunto quei due termini, imprenditorialità e managerialità, c'è da creare nuove sfide per una giusta integrazione tra queste due culture che sono profondamente anche diverse, ma che il cui sviluppo congiunto può fare la differenza. Rimane in Umbria, ahimè, un problema anche di infrastrutture fisiche, reali, dove in questa polarizzazione una distanza, una difficoltà d'accesso rispetto ai grandi centri della conoscenza, crea anche fisica, crea ovviamente un gap. Sicuramente. Presidente, prima di ascoltare, abbiamo la nostra slide dell'Umbria a due velocità, poi ne parleremo, perché c'è un'Umbria, in genere quella che esporta, che tiene botta e sta sicuramente rispondendo alle esigenze di mercato, e c'è un'Umbria quella che lavora col mercato locale, che ovviamente per questi temi che abbiamo toccato anche col professor Cardoni fatica. Prima di parlare dell'Umbria a due velocità, sicuramente parlare di velocità, si pensa alle strade. Io le chiedo subito, prima di sentire il Ministro Torinelli, lei come vede questo dibattito a livello nazionale, TAV, no TAV, grandi opere? È banale chiederlo al Presidente di Confindustria, però glielo faccio. Metti caso che lei fosse contro le grandi opere. Facciamo lo scoop. Mi sento abbastanza normale da questo punto di vista. No, il tema come sulle infrastrutture Non è un po' specioso chiederselo? No, ma è francamente una discussione un po' surreale dal mio punto di vista. Perché? Perché va bene tutto, si può discutere di tutto, ognuno può avere le sue idee, ci mancherebbe. Però stiamo, come dire, ragionando adesso sui numeri, entrando dentro su delle analisi, ma si è considerato la CISA, perché sì, ma è tutto francamente poco rilevante rispetto a un tema più importante, cioè dove l'Italia si vuole mettere nell'Europa, nel mondo. Allora a quel punto non è che c'è il conto più o meno, un miliardo più, un miliardo meno per l'opera. La TAV, che non è Lione-Torino, perché anche qui c'è una comunicazione che è molto limitante da questo punto di vista, perché sembra, come dire, poi si può fare la battuta, ma che ce ne frega di andare a Lione. No, non è così. La TAV, quel traforo serve per collegare l'Italia dal ovest dell'Europa fino alla Russia. È una cosa profondamente diversa. Quindi ci collega nel mondo a cui apparteniamo e in cui siamo e dobbiamo rimanere centrali. Non fare quell'opera significa semplicemente bypassare l'Italia. Allora, come la TAV, ormai è così nominata, il resto delle infrastrutture di cui prima il professor Cardoni parlava, di cui tutti noi ne sentiamo la mancanza, basta viaggiare insomma. Basta viaggiare per l'Italia e uno si accorge di quanta distanza c'è rispetto a quanto fatto negli anni 50, 60, 70, dove l'Italia era lì protagonista e si era infrastrutturata in un modo straordinario, molto più del resto dell'Europa. Oggi rimaniamo al palo. Ci siamo fermati. Ci siamo fermati e questo non è che ferma, come dire, solo lo sviluppo economico, ma come ha detto prima Cardoni, pensiamo all'Umbria, guardiamo a noi, no? E ripeto, noi abbiamo dei problemi, ma vi assicuro che in altre parti d'Italia, basta andare nel nord-est, uno si rende conto che la concentrazione di popolazione, di traffico, anche loro che gap hanno, è un gap enorme ed è una delle parti più importanti d'Italia. Però, ripeto, vogliamo portare qui competenze, conoscenza, vogliamo portare qui quel capitale umano che serve come driver per lo sviluppo della società tutta, non solo dell'economia? Beh, fin quando l'Umbria è distante da qualsiasi cosa, diventa difficile, cioè il talento, come dire, vuole anche delle comodità, vuole delle prossimità. Abbiamo delle città metropolitane, sì, la parte sud dell'Umbria è vicino Roma e questa è già un'altra parte dell'Umbria, ecco, un'altra velocità, perché è più vicina alla capitale, ma la parte nord dell'Umbria, che è la parte poi più rilevante in termini dimensionali, ecco, quando ci mettiamo ad arrivare a Firenze, che è ben diversa da una città metropolitana che può essere veramente driver di sviluppo, penso quindi a una Milano per intenderci. Ecco, questi sono i temi che francamente non possono essere discussi con il conto del ragioniere, non funziona. Dovrebbero stare sempre in cima a un taccuino di priorità. Lei ha parlato dell'Alta Umbria e l'Alta Umbria è da un mese circa praticamente paralizzata, perché l'E45 sappiamo è stata chiusa su una disposizione della Procura di Arezzo, oggi c'era il Ministro Toninelli, lo abbiamo avvicinato, Marco Taccucci in questo servizio ci racconta questa visita del Ministro. La E45 in direzione Città di Castello, senza il traffico pesante, sembra diventata una strada turistica per le restrizioni sul tratto del viadotto Puleto, ma i danni economici per l'Umbria sono rilevanti, soprattutto per le imprese del Tifernate e della provincia di Perugia. Ma le regioni coinvolte dalla parziale inibizione della strada di grande comunicazione sono anche Toscana ed Emilia Romagna, per questo che per il sopralluogo del Ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli erano presenti deputati e senatori dei Cinque Stelle ed alcuni sindaci dei comuni interessati per l'Umbria, Luciano Bacchetta di Città di Castello, nonché Presidente della provincia di Perugia, che Paolo Fratini di San Giustino. E questo è il Tevere 4, il viadotto altissimo vicino al Puleto di cui parlava strisce la notizia che il Ministro Toninelli è voluto andare a controllare di persona proprio nella parte a valle dove passa il fiume Tevere. Dopo la visita ai piloni, Toninelli ha annunciato che il Puleto sarà riaperto al traffico pesante entro al massimo 1-2 mesi. Consegnare alla procura un'altra perizia sulla tenuta di questo viadotto e probabilmente, non dipende dal sottoscritto ma dipende dalla procura, probabilmente poche settimane e si potrà riaprire anche i mezzi pesanti e far tornare, io dico, finalmente alla normalità questo territorio che vede tantissimi spostamenti su questa tratta stradale. Altri temi affrontati dal Ministro, la ex Tiberina, la Perugia Ancona e il nodo intorno al capoluogo. Abbiamo fatto un tavolo poche settimane fa al Ministero, è stata completata, ieri abbiamo completato una convenzione al mio Ministero dove ANAS firmerà insieme alla provincia e al comune e si sostituirà all'ente territoriale per fare i lavori, quindi finalmente anche la ex Tiberina potrà essere riaperta ed essere una via alternativa all'Ai45. Ci siamo fatti per bene i lavori, ci ne scappaventi le superstrade. L'Umbria è la regione maggiormente penalizzata perché ci sono tantissime imprese disannate nella provincia di Perugia, noi abbiamo anche il problema della Perugia Ancona e del nodo di Perugia che è un nodo essenziale per il traffico che passa sull'Ai45, in merito cosa può dire? L'Umbria è la regione che è più interessata dalle Ai45 perché mi pare più della metà dell'intero tratto di 247 km riguarda l'Umbria, quindi è tanto più necessario per l'Umbria riaprire questa infrastruttura prima possibile. Io le do però una risposta generica alla sua domanda. Se c'è un governo di fronte a un ministro che vuole riaprire tutti i cantieri bloccati che ci sono in Italia e aprirne di nuovi sulla manutenzione dell'esistente, l'Umbria e tutte le altre regioni italiane ne avranno un beneficio. Ma da tutti i punti di vista perché un conto è dare una grande opera, il TAV impegna al massimo 700 persone per volta come maestranze, come operatori e come parte tecnica. Se noi invece utilizzassimo quei soldi per migliaia di opere diffuse, sa che sono decine e decine e decine di migliaia di posti di lavoro su tutto il territorio nazionale, quello sì che generebbe il PIL positivo. Intanto però i territori coinvolti hanno chiesto al ministro l'istituzione di un tavolo di crisi per i danni subiti dall'economia. Questa è la sua risposta. In questo momento è necessario riaprire a una viabilità totale, anche mezzi pesanti. Ovviamente se non dovesse passare più di questi 30 giorni di cui abbiamo parlato per la riapertura, noi valuteremo a un tavolo di governo con il ministro Di Maio, con il Presidente del Consiglio, anche per le necessità fatte dal territorio e dall'impresa locale come aiuti. Non possiamo dimenticare un territorio come questo danneggiato da una chiusura di una tratta stradale così importante. Questo il ministro Toninelli oggi sulla E45 ha parlato prevalentemente di E45, abbiamo cercato con il nostro Marco Taccucci anche di stimolarlo su altre situazioni un po' critiche e poi ne torneremo a parlare col Presidente Alunni. Ha parlato anche di Europa e dall'Europa arriva Italo Carmignani. Abbiamo sottratto all'aeroporto di Strasburgo e l'abbiamo portato qui in studio. Così ci racconta che cosa dicono in Europa dell'Italia o addirittura dell'Umbria. Sì, d'accordo, l'Umbria è sempre vista come una terra assolutamente di tradizioni e soprattutto di eccellenze dal punto di vista sia alimentare sia dal punto di vista culturale. Ma qui siamo per parlare di industria, il Presidente Alunni è un Presidente della discontinuità, non solo perché dopo anni di dominio e in qualche modo contrasto nei confronti del contrasto di anni di gestione da parte della provincia perugina, adesso abbiamo un signore, un imprenditore molto bravo che è nel settore della geografia ternana, quindi la discontinuità geografiche da una parte, dall'altra una discontinuità anche rispetto a quelle che sono un atteggiamento nei confronti del mondo imprenditoriale e soprattutto il rilancio e la valorizzazione di quello che è il manufatturiero. Quindi abbiamo queste due discontinuità, da una parte non più l'edilizia al centro del mondo ma il manufatturiero che torna di nuovo a marciare e soprattutto a regalare un buon PIL. Dall'altra la geografia, ma questo significa anche che potremmo essere discontinui rispetto a due temi che possono essere uniti. Dalla parte è la formazione professionale, noi abbiamo, lui l'ha denunciato più volte, questa contraddizione in termini di avere posti di lavoro e di non avere personale da impiegare in questi posti di lavoro. Al di là della formazione degli imprenditori che può sì, può funzionare con le scuole ma in realtà è poi la pratica quella che ci aiuta, ma noi abbiamo forza lavoro che non può essere assunta perché non ha le capacità e le competenze per questa cosa. Abbiamo voluto tutti ingegneri, i nostri figli, l'abbiamo voluto tutti preparare per impieghi che ritenevamo alti e forse no. La seconda domanda è sempre sulla discontinuità rispetto a quello che sono le infrastrutture diciamo così regionali. Abbiamo un aeroporto che non funziona, abbiamo un E45 che continuiamo a rattoppare, ma la rattoppiamo da 30 anni. Forse si trattava di prendere decisioni più azzardate o forse anche più coraggiose di farla trasformare in autostrada. Questo è un po' il tema. Quindi il discontinuo, Presidente Alunni, ci può dire che magari c'è stato poco coraggio nel fare una scuola di formazione adatta per l'industria, nel fare delle scelte delle infrastrutture più coraggiose? Ma guardi, guardando al passato, cercando quindi di capire dove si è sbagliato, se si è sbagliato, io penso che il tema della formazione, sono diversi anni che come associazione ci stiamo impegnando in tutto il territorio regionale affinché, ad esempio, la formazione tecnica riprenda dignità, riacquisti dignità. Perché per lungo tempo nelle famiglie, insomma, le scuole tecniche o professionali erano viste come una serie B, esatto, formativa. di fatto non lo sono. Nel mondo c'è bisogno di tutto, c'è bisogno del medico, ma c'è bisogno del fabbro, insomma, no? In mezzo c'è tutto, è dell'agricoltore. E questi sforzi hanno dato i risultati, perché le nostre scuole tecniche, sia nella provincia di Perugia che Titerni, stanno negli ultimi anni veramente verificando un incremento di iscrizioni molto, molto importante. Però questi sono percorsi di medio e lungo termine. Nel senso non è che si realizza una copertura del gap in pochi mesi o anni, o in un anno, insomma, o corono degli anni. Probabilmente in passato abbiamo tutti sbagliato nel non, e qua è il tema che a me è molto caro, riportare al centro dell'attenzione del dibattito generale il tema industriale, no? Perché si parla poco di industria. E quando se ne parla, purtroppo, anche oggi, insomma, se ne parla sempre per aspetti negativi, non positivi, giusti o sbagliati che siano. Quindi il tema industriale è un tema vero. L'Umbria è terra di manifattura, cioè la bellezza che l'Umbria ha, al di là di quella naturalistica e paesaggistica, viene da secoli di tradizioni, di mestieri, di artigianato, che poi nell'Ottocento, nel Novecento si è anche trasformato in industria. E qui abbiamo una presenza industriale in Umbria di primissima rilevanza. E non parlo delle eccellenze, perché altrimenti si rischia sempre poi di dire, va bene, ci sono quelle 5, 10, 20 aziende che sono molto brave, ma il resto. La manifattura in Umbria negli ultimi anni è cresciuta, è cresciuta in termini di fatturata, è cresciuta in termini di occupazione. Noi abbiamo fatto, per meglio rispondere anche a questi quesiti e per meglio capire noi come associazione qual è il contributo che diamo all'economia e quello che potremmo dare ancora di più all'economia regionale. Abbiamo fatto una verifica delle aziende che noi rappresentiamo. Quindi quando si parla di economia dell'Umbria si parla di un macro dato. Andiamo un attimino a vedere invece noi. Il mondo confindustria. Il mondo confindustria. Quindi le nostre società di capitale, quelle scritte, camera di commercio, bilanci depositati, quindi non è che facciamo nulla di particolare. Ognuno lo può ripetere questo esercizio. Le nostre 700 società di capitale hanno incrementato il fatturato nel 2015-17, quindi in tre anni, dell'8%, contro un 3,3% regionale e, scusate, la parte manifatturiera. Adesso faccio un focus sulla parte manifatturiera, di cui delle 700 ne abbiamo 425. Hanno fatto una crescita di fatturato del 5%, del 5,5%. Gli occupati sono aumentati. Gli occupati sono aumentati, mentre il dato regionale della manifattura si è ridotto. Ergo nella manifattura c'è tutto. C'è la piccola impresa, la micro, la media, la grande. E qua si dimostra dei numeri, e qui basta essere un po' osservatori, poi abbiamo il professor Cardoni che ci potrà dare una mano, che quando si parla di industria, e l'industria è una cosa diversa, è un di cui della manifattura, c'è più competitività, c'è più capacità di vincere le sfide globali, di internazionalizzazione, di innovazione, di presenza manageriale, di qualità del lavoro, quindi anche di salari più alti. E lo vedono anche questi numeri dell'Umbria, quindi a me non mi hanno sorpreso. Però su questi numeri vorremmo che tutti facessero un'analisi approfondita, partendo dalle istituzioni, ma la società tutta, perché ecco che torna il tema industriale. Vogliamo creare più occupazione. Allora quali sono le esperienze da prendere? quelle che vanno bene o quelle che vanno male? O quelle che non ci sono più? Quale delle due velocità? Bravo. Allora, le due velocità. Se parliamo della manifattura, se parliamo dell'economia, dell'industria, la caratterizzazione industriale porta a crescita, quella non industriale non porta a crescita, anzi porta a una riduzione nell'occupazione in modo particolare. E questo è un dato di fatto che non è dell'Umbria. Qualsiasi studio, insomma, dei paesi più sviluppati dimostra questo. Allora ecco che il tema industriale che ha come necessità un contesto favorevole, cioè l'industria non è che chiede cose strane, certo. La cosa più importante qual è? Un ambiente sicuramente non contrario. Non ostile. E oggi in Italia, per molte ragioni, anche temi attuali, insomma, basta guardare ogni piccolo problema che abbiamo dal nord al sud, alle isole. Sembra che, come dire, l'industria anziché una soluzione è il problema del paese. E siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. La nona potenza industriale a livello come PIL mondiale. E per che cosa? Fatemi capire. Per il turismo? Non penso che il turismo sia una risorsa, una ricchezza che va sviluppata. Certamente. Però se parliamo del reddito, adesso c'è un dibattito molto attuale, il reddito di cittadinanza. E io mi sorprendo quando in televisione sento esponenti importanti, sottosegretari di governo, che prendono 850 euro come un reddito accusando l'industria. Noi. Che i salari siano troppo bassi. Ma lei mi deve trovare un'impresa industriale che ha uno stipendio di 850 euro. Nella metalmeccanica, nella chimica, ma me la trovi. Non c'è. È nell'industria che non ci sono queste condizioni. Ci sono nel resto. Poi questo è un altro tema del perché. Certamente. Poi potremmo sviluppare, perché ha aperto diversi fronti, il Presidente. Finiamo questo primo giro con Giuseppe Castellini, che vedo che è pieno di appunti. No, no. E allora una breve considerazione per una domanda al Presidente. No, ma io intanto sono d'accordo sulla... Io sono un industrialista, quindi sulla centralità dell'industria nello sviluppo economico, perché c'è poco da fare, i livelli... Soprattutto sono industrie aperte al mercato. Sono industrie protette? No. Ma le industrie aperte al mercato sono costrette dalla concorrenza nazionale e internazionale a ovviamente sviluppare l'innovazione. Tengono buoni livelli di produttività. Per esempio l'Umbria ha una produttività nei servizi del 30% più bassa della media nazionale. In alcuni settori industriali no. Per esempio nella meccanica è leggermente superiore. Quindi è evidente che dove... L'industria è come un nocciolo, no? Un nocciolo può essere più o meno grande che però dà un po' poi il tono a tutto. Questo è pacifico. Il fatto che l'industria Umbra, ora magari sarò curioso di vedere i dati che ci ha fornito il Presidente, sia diciamo così brillante nel panorama nazionale, questo a me non convince. Non convince perché ho visto le adesioni, per esempio, che sono state in Umbria inferiori della media nazionale, alcune importanti iniziative come l'industria 4, come il super ammortamento. In Umbria gli indici ci dicono che sono più bassi. Quindi evidentemente rispetto a quello che dovrebbero essere tenuto conto della base industriale che ha. Quindi c'è qualche problema di innovazione e di competitività. Poi quando parliamo di industria, anche in senso stretto, come credo la intendere, abbiamo l'edilizia per dire che un mondo a parte, no? E poi anche lì va sfaccettato. Un grande problema è che noi abbiamo poche industrie che esportano, cioè le nostre esportazioni in Umbria sono lo 0,7. Noi abbiamo un pil, un pilumbro che pesa sulla media nazionale dell'1,4. Il nostro tasso di esportazione è 0,9, scusate, non 0,7, 0,9. Ora è vero che qualcuno dice male, siccome l'azienda Umbria lavora molto in subfornitura, ci sono delle forniture che tu fai ad aziende magari del nord che poi esportano, quindi in quella quota di esportazione c'è anche l'Umbria. Però insomma diciamo che come protagonista dell'esportazione sei basso, dovresti avere l'1,4, quanto meno puoi stare in media, quindi sei poco sopra la metà, il 60-65% a metà. E poi sarai meno ottimista perché, levando adesso il discorso industriale, che è un pezzo fondamentale dell'economia, ma non è ovviamente tutta l'economia, noi abbiamo preso una briscola che anche per alcuni motivi non ci torno che delle caratteristiche della struttura economica Umbra, che diceva il professor Cardoni, una botta che io credo sia stata uno tsunami. Cioè basti pensare che noi nel 2000 avevamo un pil per abitante fatto 100, la media nazionale di 99,5, quindi sostanzialmente eravamo pari alla media nazionale. 17,5 punti sotto la media del centro nord, ma 26, 27, nettamente a superare il sud. Quindi eravamo una cerniera, ma più spostata verso il centro nord. Oggi, col dato del PIL 2017, siamo a 84-85, se noi abbiamo perso quasi 14 punti sulla media nazionale dal 2000 ad oggi, che su una media nazionale che è andata male. È un problema di... Esatto. Il problema sono quelli che ha detto il professor Cardoni, quelle fragilità lì le abbiamo pagate dopo il 2000 in maniera moltiplicata rispetto a quanto non l'abbia pagato l'Italia, perché anche l'Italia dal 2000 non cresce fondamentalmente. Ma guardavo dei dati, per esempio, il PIL di aree per abitanti, per ritare anche in un periodo più breve. Sinteticamente. Sinteticamente gli do solo questo per dare una dimensione. Nel 2010, tra il 2010 e l'ultimo anno che ci dà l'Istat, nel 2017, l'Umbria è sceso il PIL per abitante del 5,1 rispetto al più 2,6 della media nazionale rispetto al più 3,8 del centro nord e più 1,1 del centro. Siamo andati. È stato un tsunami, dobbiamo dire. Ora, da dove ricominciare? No, da dove ricominciare. Da dove cercare di individuare i punti di ripartenza è complicato, non possiamo certamente risolverlo qua. Però io volevo dire che bisogna rendersi conto che è stato come gli occupati. Gli occupati saranno andati bene l'industria, ma noi abbiamo ancora 6.000 occupati meno del 2010. È quasi 8.000 meno del 2000. Su quest'analisi è purtroppo a tinte fosche il Presidente. L'industria ovviamente è un pezzo importante dell'economia, purtroppo però l'Umbria, in queste due velocità, ha l'industria che va ad un passo e il mondo restante, che fa parte anche di quell'humus di cui lei diceva l'industria ha bisogno, perché se è circondato poi da un contesto negativo non ne giova sicuramente, che va male. Lei da questo punto di vista come la vede e soprattutto come si esce da questo tunnel? Ma parto da dove si esce. Allora, i numeri sono i numeri, quindi ho studiato anche economia, quindi i numeri non è che si possono però analizzare. Vedendo i numeri che si fanno sulla TAV in questi giorni dovrebbero obiettare, scherziamo. Ma come sulla TAV? Purtroppo no, ma. I numeri che sono stati appena ricordati sono numeri chiari e impietosi, quindi questo è, non c'è dubbio. Ma è qui che poi occorre fare il ragionamento, allora che facciamo? E perché questi numeri sono in questa dimensione, no? Perché poi nelle medie ci si perde un attimino, no? La media... Trilussa insegna. Eh, Trilussa insegna, esatto. Che è una battuta che però Trilussa la fa caratterizzare pienamente. Rendere, quella dei polli. Quella dei polli. Ma il tema è appunto questo. Allora, io sono qui in veste di rappresentante di un comparto dell'economia, di un pezzo dell'economia, certamente quindi non posso parlare e non ho né titolo né anche volontà di parlare per tutti perché non mi compete. parlo per l'organizzazione che rappresento. L'organizzazione che rappresento ha un ruolo fondamentale a mio giudizio perché? Perché le nostre aziende che rappresentano comunque il 91% del manifatturiero regionale, cioè le nostre aziende che sono numericamente poche, qui ecco andiamo un po' a analizzare i numeri perché quando parliamo del 91% ma di che? Quindi 425 aziende nostre associate, 425 aziende, non è che dico quindi migliaia di aziende, 425 aziende producono il 91% del PIL manifatturiero regionale. Questa è la dimensione. Ovviamente siamo in una regione di 850 mila abitanti. Però se ritorniamo su questo nucleo di aziende molto modesto in termini numerici, io penso che ecco questa dimensione magari sfugge ai molti, perché quando si parla poi delle imprese manifatturiere generalmente si parla di migliaia di imprese. Però migliaia di imprese è vero, però quelle industriali che hanno una certa dimensione e che hanno una prevenzione più naturale a quel tema dell'esportazione che ricordava prima giustamente, che si ricordava prima che è un tema fondamentale perché è indubbio che quando io parlo di industria, parlo di industria aperta ai mercati, non è che parlo delle industrie protette o come dire, nelle isole felici in cui non ci si confronta con il mondo. L'industria vera è quella che compete, in un mercato globale, in un mercato globale e quindi come dire, senza sconti per nessuno, vince chi è più capace di innovare, di dare un prodotto migliore, un servizio all'altezza. Ecco, un numero molto piccolo rappresenta la quasi totalità del manifatturiero. Allora, cosa bisogna fare? In primo luogo, e queste 425 aziende stanno comunque nella media loro crescendo, crescendo bene. Abbiamo anche qui situazioni di crisi, ci mancherebbe, ma queste sempre ci saranno, no? Cioè non è che, come dire, al di là dell'impegno dell'imprenditore, di tutti i suoi collaboratori, il mercato... Cioè nessuno ha la bacchetta magica. No, no, insomma, non premia valori morali, premia risultati e a volte ci sono degli errori, degli sbagli che vengono fatti. Quindi situazioni di crisi, purtroppo il mercato libero sempre le produrrà, speriamo in misura minore. Il tema è come far sì che le altre, quelle che non sono le 425 che mediamente hanno aumentato i dipendenti, hanno aumentato il fatturato, gli utili, hanno marginato meglio, come fanno le altre ad avvicinarsi a questo? Questo è l'obiettivo che la Regione dovrebbe tutta assumere. Ma quando dico la Regione parlo della comunità regionale. Ed ecco perché l'industria, dal nostro, dal mio punto di vista, è la soluzione. Perché possiamo sicuramente migliorare tante altre cose che vanno fatte. Quindi non è solamente il tema industriale, il tema della Regione Umbria. Però se dobbiamo individuare due, tre soluzioni maestre su cui indirizzare le scelte, che rientra la formazione. Perché è una di queste scelte? Perché è evidente che, come dire, risulta difficile pensare che le nostre industrie assumeranno persone che vengono dalla Lombardia o dalla Sicilia. Bisogna farle nel nostro territorio, tanto per essere chiari. Anzi, c'è un problema inverso, che poi lo vedremo, quello della fuga. Esatto. Il caso è il contrario. Allora, c'è il tema della formazione, c'è il tema di essere vicino in ogni singolo territorio e comunità ai temi industriali e non vedere invece con l'industria il problema, il problema per l'ambiente. Anche perché, vedete, anche qui c'è una cosa che va chiarita. Al netto di responsabilità singole che vanno verificate dagli organi competenti e ci mancherebbe. Quindi abbiamo, come dire, una legge che prevede e permette di far sì che tutto venga fatto nel migliore dei modi. Ma dove c'è industria c'è anche maggior rispetto dell'ambiente. Il tema ambientale, per esempio, è un tema per noi fondamentale, di grande competitività di un territorio. E ogni studio dimostra che dove c'è presenza industriale, e industriale intendo organizzata, strutturata, tutti questi temi sono gestiti in modo corretto e più avanzato possibile. Funzionale. Noi dovremmo avere un collegamento telefonico, chiedo l'Umi alla regia, altrimenti andiamo in pubblicità. Non lo abbiamo. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con la seconda parte, il secondo giro con i nostri interlocutori e con il presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni. Torniamo in studio, seconda parte con il presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni. Tra poco apriremo anche un'altra pagina legata a quello che dicevamo. Abbiamo parlato ovviamente della necessità di rafforzare un tessuto economico imprenditoriale locale. C'è anche da fare i conti però con tanti fenomeni, tra questi anche la fuga. E di fuga purtroppo bisogna parlare di tante energie, di tante intelligenze, di tanti saperi, sia dopo il loro percorso universitario o anche prima. Abbiamo su questo un servizio, però prima coinvolgo di nuovo il professor Cardoni sulla scorta anche di quello che si è detto fino a questo momento. La nostra slide recita chi ha la bacchetta magica. Ovviamente è una provocazione, qui nessuno ce l'ha la bacchetta magica, ma tra le tante problematiche che sono emerse la coinvolga anche su un altro tema, quello delle emergenze principali, ovvero la produttività, sempre purtroppo un altro elemento limite accanto a quello delle infrastrutture e un contesto che non aiuta a far crescere il tessuto. Allora, leggo un pochino il problema delle competenze e anche della fuga con quello della produttività e anche con quello della gestione delle aziende. Cerco di mettere insieme queste tre cose, richiamando anche un intervento che ho fatto lo scorso anno in commento ai dati di Banca Italia, per cui parto da due primati che ha l'Umbria. Sul lato della domanda un primato è meno negativo, cioè come la domanda dei profili è sui profili medio-bassi, per cui grande difficoltà a far emergere una domanda di profili alti. Sul lato domanda, sul lato offerta invece un livello di lauree, diciamo di personale laureato e personale qualificato in Umbria superiore alla media italiana, per cui abbiamo questo paradosso. Abbiamo una domanda che sul piano della qualità è sotto la media, a livello, diciamo, di aziende e una offerta che invece è sopra la media. Quasi come se il mercato non dialogasse con la formazione. Quasi come se... Senza come se... Ecco. Per cui siamo una regione un po' particolare sicuramente, cioè anche ricca di capitale umano, almeno se pensiamo al capitale umano più alto, però povera di domanda, il cavallo non beve, come si dice, per cui come se questo sistema produttivo non avesse bisogno di competenze alte. E su questo mi leggo, tocco un po' un tema sicuramente caldo, però ecco richiamo la ricerca Banca Italia all'anno scorso, del 2018, molto bella secondo me sulla produttività, che ha fatto un esame ovviamente molto articolato, perché il tema della produttività sicuramente è un tema che tocca vari aspetti, sia aspetti esterni, per cui infrastrutture, sistemi di comunicazione, ma anche aspetti interni. Diciamo loro si sono concentrati sul sistema delle imprese guardando quello che chiamano in inglese ownership and management, cioè la proprietà delle imprese e la gestione delle imprese. Allora, sulla proprietà delle imprese hanno riscontrato che abbiamo una percentuale di proprietà familiare che è pari a quella della Francia, della Spagna e della Germania, per cui siamo sull'80%, cioè in questo senso l'Italia è al pari della Germania, della Francia e della Spagna in quanto a imprese con proprietà familiare. Partiamo alla pari. Esatto. Però poi che succede? Poi dopo c'è un secondo step di controllo, imprese con l'organo apicale, che fosse l'amministratore delegato oppure il direttore generale, espressione della famiglia e anche qui siamo più o meno alla pari, addirittura con la Germania, la Germania è un pochino più alta di noi, per cui anche la Germania esprime un apicale che ha praticamente una provenienza familiare. Quello dove siamo in percentuali nettamente superiori, perché siamo intorno al 65-70%, quando la media della Francia o della Germania è intorno al 20-25%, le aziende a gestione familiare. A gestione familiare vuol dire che nell'organigramma delle aziende ci sono gli stessi cognomi, per cui questo, sulla base della ricerca Banca d'Italia, riscontravano poi con le analisi classiche di correlazione che fanno tra il tipo di governance, cioè gestione familiare e le performance in termini di investimenti, di innovazione, riscontravano che questo generava poi impatti negativi sull'innovazione e sulla trasformazione anche dell'azienda. Per cui, ecco, su questo, diciamo, secondo me... E questo tema si innesta anche su un altro tema, quello del ricambio generazionale. Esatto, esatto. Per cui, diciamo, ecco, io almeno nell'intervento di Banca Italia ho legato un po' il tema della produttività col tema della gestione aziendale, dove ritengo, almeno nella mia visione, necessario questo innesto di managerialità, che significa più meritocrazia, che significa integrare nelle strutture proprio di gestione, che non è l'apicale, ma proprio il quotidiano, è la gestione finanziaria, è la capacità di strutturare dei piani industriali, di controllare i numeri, no? Per cui, in questo senso, chiudo con il discorso anche del dottor Alunni, la logica industriale, no? La logica industriale, che è comunque il viatico oggi per competere, logica industriale che può riguardare anche un settore commerciale, però quello che ha in più l'industriale è la capacità di far convivere il suo business con gli investimenti, con la pianificazione, col controllo dei numeri, perché l'industria ci è stata costretta, e ci è costretta per natura a convivere con le complessità. E di managerializzare. E di managerializzare, e su quello probabilmente, anche lì, c'è probabilmente bisogno di una spinta, no? Perché ci sono tante aziende che probabilmente hanno bisogno di questo. Però, in questo senso, io lo vedo come l'unica alternativa per cogliere un legame ancora col mondo strutturato. Siamo nella guerra dei mondi, no? Il mondo destrutturato con quello strutturato. Sicuramente il viatico per andare verso il mondo strutturato è questo. Presidente, c'è questa, diciamo, caratteristica che poi è nazionale, insomma, non è ovviamente solo Umbra. Poi sentiamo, sentivo Giuseppe che voleva dire qualcosa. Lei che si sente di... Assolutamente sì. Assolutamente sì, tant'è che il problema che abbiamo anche noi nella nostra associazione, per i nostri associati, è vero che negli ultimi anni siamo cresciuti nel manifatturiero, nel fatturato, nei dipendenti. C'è un tema di marginalità. Cioè, c'è un tema che, guardate bene, il tema della produttività, anche questo va ben spiegato, perché l'Italia ha un problema di produttività. Sì, ce l'ha anche l'Umbria, è ovvio. Non è che l'Umbria è qualcosa di diverso. In caso ce l'ha ancora di più. Ma il problema dell'Italia della produttività industriale che è bassa, non perché nelle nostre fabbriche si lavora, come dire, con meno intensità rispetto... ma semplicemente per il mix di prodotti che noi facciamo. Il nostro sistema industriale, se noi siamo la seconda manifattura in Europa e tra le prime dieci nel mondo, è indubbio che siamo produttivi in quello che facciamo. Il problema è che siamo in un segmento di prodotto o in fasce di prodotto a minor valore aggiunto. E quindi numeratore e denominatore, ecco che viene fuori qual è il margine di produttività. Bisogna aumentare il numeratore di molto. E questo in Umbria è molto presente ed è molto preoccupante. Perché? Perché anche nella nostra manifattura, e qui al netto di alcune eccellenze, e qui le eccellenze ci sono, che hanno delle marginalità molto importanti perché sono su prodotti, su fasce di mercato, su nicchie ad alto valore aggiunto. E quindi in quel caso abbiamo a doppia cifra tutto e tutto va bene. Ma la maggior parte non è così. E qui arriva il tema che il professor Cardoni ha perfettamente spiegato. ed è un tema industriale, ed è un tema imprenditoriale. Quello di un cambiamento, di qui di una discontinuità vera. Perché? Perché l'industria oggi non permette più, come dire, che la famiglia in quanto tale, perché è proprietaria, come dire, è detentrice del sapere e della visione unica. Il mondo globale questo non lo permette più e c'è qui una scala dimensionale. Se vogliamo far sì che le nostre imprese crescano dimensionalmente, che è il primo obiettivo che il nostro paese e anche la nostra regione dovrebbe avere a cuore. Quindi far sì che le nostre grandi imprese diventino sempre più grandi, vadino nel mondo ad acquisire altre aziende, diventino delle multinazionali di primaria grandezza, che le nostre medie diventano grandi e poi facciano lo stesso e che le nostre piccole diventano medie. Questo deve essere l'obiettivo nazionale. Al pari delle infrastrutture, al pari di tutto il resto, più delle infrastrutture. Permettetemelo. Più delle infrastrutture. Occorre fare che cosa? Occorre portare nelle nostre aziende quelle competenze manageriali, quelle competenze tecniche di alto livello che oggi purtroppo ancora mediamente sono poco presenti. E qui anche l'imprenditore deve fare il suo mestiere. Un passo indietro per dare il passo al manager. Quando serve deve fare un passo indietro, anche due se serve. Italo Carmignano. Banca Italia ci dice una cosa, a parte che io ritengo sempre rispetto alla prima domanda che era insidiosa, qual è quella struttura amministrativa che non ha permesso, che ha frenato lo sviluppo, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista economico e via dicendo. Io sono sempre per una piccola responsabilità politica in questo senso. Ma restiamo sui numeri, restiamo in Banca Italia. Banca Italia ci dice che l'accesso al credito, dicono gli imprenditori, è più complicato, ma in realtà non è. Ma ci dice che ci sono meno progetti, c'è meno richiesta di denaro, c'è meno impresa familiare che dice voglio crescere, voglio investire, voglio fare nuovi macchinari, voglio svilupparmi. E questa mancanza di coraggio è dovuta ad un fatto strutturale, ad un fatto ambientale, ad un mancato coraggio in un incentivo. Perché in questo momento le banche, l'Europa ha dato una mano notevole, quindi avrebbero anche risorse a disposizione, abbiamo tasse di interesse che non sono altissime, abbiamo un momento economico che favorisce anche quello che dovrebbe essere l'investimento. Ma c'è poco coraggio, pochi progetti, poca intenzione di crescere come lei vorrebbe. E questo è tutta colpa dei piccoli imprenditori oppure di un clima generale? Io vedo nel clima generale la prima responsabilità, perché vedete, le nostre azioni, i nostri comportamenti sono mossi anche dal momento in cui viviamo. È ovvio che se continuiamo a parlare, come è giusto che da un lato anche trattare i problemi, capirne la dimensione, trovare le soluzioni, ma diamo messaggi profondamente negativi. E oggi è raro un messaggio positivo trovarlo dai giornali nazionali a quelli locali. È evidente che questo frena, frena, è un vincolo, è un vincolo enorme. Cioè la realizzazione degli investimenti, l'accensione di un mutuo, di un finanziamento. Perché poi, insomma, andiamo nel concreto. Quando un imprenditore cresce, cresce non perché vende proprietà che ha disponibile e quindi diversifica il suo portafoglio finanziario. No. Questi sono forse pochi casi. Nella maggior parte dei casi l'imprenditore cresce ipotecando tutti i beni che ha, fabbrica, stabilimento, casa o case, quindi impegnandosi per i prossimi 5-10 anni. Lui e la sua famiglia. E quindi mettendo a rischio la storia di una vita. Questo è il percorso normale nel passato e nel presente. E probabilmente sempre lo sarà. Quindi è evidente che prima di fare questo, con un mercato che oggi è globale, un mercato che è veramente complesso, imparagonabile rispetto a quello di 5-10 anni fa. Quindi non voglio parlare di 20 anni fa. Io ho 22-23 anni adesso di vita lavorativa in azienda. Mi garantisco che, insomma, le rivoluzioni... Ha visto due ere. Ma no, no due. Ne ho viste quattro di ere. Per quanto mi riguarda. Per quanto mi riguarda guarda, ma penso che questa è la storia di tutti. E qui è il problema che dove questo non si è verificato, poi si è rimasti talmente indietro che quando poi ci si è accorti di come il mondo girava, la propria azienda era ormai non più possibile recuperarla. Il tema qual è? Il tema è che per fare gli investimenti, come per i consumatori, i consumi... Qual è un driver dei consumi? Il clima. Il clima generale. Se è positivo o negativo. Se abbiamo un clima positivo, questo favorisce. Presidente, è anche vero che i giornali riportano quello che un giorno è vero e il giorno dopo è il contrario. Non è che possono dare messaggi positivi. Purtroppo succede questo. Si vengono prese decisioni di un tipo e due giorni dopo di un altro. Ma io non è che parlo... Il tema... I giornali hanno le loro... A mio giudizio ha anche responsabilità. Però il tema... La politica, no? La politica nel senso più alto del termine. È quella che deve dare una strada. Una visione. Non è che è quella che deve scegliere se domani facciamo aerei, trattori, oppure, come dire, costruiamo più macchine. No, 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 no. La politica, questo... Questo spesta l'impresa, il mercato, i consumatori, decidere se vogliono vestire blu, verdi, oppure... Però la politica deve dare un indirizzo. Però la politica deve dare un indirizzo. Allora, se negli anni 50 era chiaro, 60... Cioè, quando è avvenuto il boom economico dell'Italia, che è un momento straordinario, che io, francamente, ogni volta che lo rileggo, lo studio, mi appassiono, insomma, come italiano, come italiano, orgogliosamente italiano di quello che è stato fatto, in pochissimi anni, in pochissimi anni siamo passati dal Medioevo alla Modernità, in pochissimi anni, veramente, finendo da una guerra persa, quindi una cosa straordinaria, storicamente, ma che c'era? C'era un paese che aveva un'ambizione. C'era un paese che voleva tutto, tornare ad essere, o iniziare ad essere, uno, un soggetto importante a livello internazionale, al pari delle altre grandi potenze industriali. Ritorno a dire, un tempo si diceva potenza industriale, non a caso, e quindi ritorno, permettetemi, sul tema industriale. Quando parliamo di potenza, a parte quella militare, ma quella militare viene se c'è una industriale. Oggi le guerre si fanno con i numeri, tra virgolette, dell'economia. Allora, ecco, per rispondere alla domanda, manca questa visione, ma il nostro paese cosa vuole essere nel 2030? Cosa vogliamo essere? Dove vogliamo essere nella classifica dei paesi più avanzati? Su cosa vogliamo essere leader? Su cosa vogliamo essere tra i primi tre nel mondo? Se questo si rinizierà, inizierà ad essere nuovamente tema di discussione, io sono certo che quell'humus straordinario di intraprendenza, che l'Italia ha sempre avuto, quindi questo è il nostro patrimonio che oggi stiamo un po' mortificando, in tutte le dimensioni, e qui ecco anche la fuga dei talenti, no? Che prima si discuteva. La stoppo qua, perché non voglio accrescere il livello di mortificazione, nel senso, quello che ha detto, ci mortifichiamo, no? Però purtroppo, un altro aspetto, che andiamo ad analizzare in questa scheda, è quello che la futura classe dirigente, quelle intelligenze che potrebbero essere i punti di riferimento per trainare quel ritorno al passato, che significa in realtà ritorno al clima del passato, ma guardando al futuro, e in molti numeri sempre crescenti, scelgono di andare altrove, all'estero, o nel caso dell'Umbria, in altre aree d'Italia. Abbiamo fatto qualche conto, vediamo la scheda. Sono 244 mila gli italiani che negli ultimi cinque anni hanno lasciato il paese per andare a cercare fortuna all'estero, stavolta però non hanno la valigia di cartone, come nei primi del Novecento, o nei due decenni successivi al dopoguerra. Stavolta si tratta di laureati e diplomati, oltre 60 mila che in Italia non trovano occasioni di lavoro, opportunità soddisfacenti, stipendi gratificanti o speranze di carriera. Solo questo? Forse c'è anche dell'altro. L'Umbria contribuisce a questa emorragia anagrafica con un discreto gruzzolo di under 30 che salutano. Secondo i dati demo Istat, nel 2010 se ne sono andati in modo permanente dall'Umbria, trasferendo la residenza all'estero 2458 persone. Nel 2018 questo numero sale a 4.692, più 90,9%, più 2.234 persone. Si tratta per lo più di giovani. In attesa di capire se il trend sarà destinato a proseguire e magari ingrossarsi, vale la pena osservare l'altra faccia della medaglia. In Italia, e l'Umbria non fa eccezione, ci sono spazi occupazionali ancora scoperti. E non parliamo soltanto di mansioni medio-basse, quelle che per capirci gli italiani non vogliono più interpretare ormai da un paio di decenni e che vengono puntualmente assolte da mano d'opera straniera. Parliamo anche di figure professionali specializzate, capaci di offrire alta specializzazione nelle funzioni operative. Un tornitore nel campo della meccanica, piuttosto che un programmatore nell'ICT, non si trovano per strada, non escono preparati per svolgere queste attività da un istituto superiore, difficilmente emergono dalla popolazione universitaria. Peccato che di figure come queste, solo in Italia, ne serviranno almeno 135.000, secondo le stime di Modis, società della DECO Group, e non si trovano. A sopperire ci pensano corsi di specializzazione come gli ITS, che però ancora non riescono a soddisfare che minima parte il fabbisogno professionale. L'Italia sforna tra i 10 e i 15 mila specializzati ogni anno, dal circuito ITS, quando altri paesi come Germania, Francia e la stessa Spagna ne formano annualmente 10, 20 o anche 50 volte tanti. Dove nasce il cortocircuito? È possibile che in una fase di crisi economica occupazionale, ormai endemica, ci siano sacche di scompenso tra domande e offerta di lavoro qualificato così sbilanciate? L'impressione è che serva davvero una task force tra istituzioni, mondo scolastico, formazione e mondo dell'impresa, insieme ai sindacati, per andare a ottimizzare ogni risorsa economica e soprattutto professionale, per ridurre al minimo questo gap. Non consola il fatto che altri paesi dell'Unione Europea vantino analoghe distanze tra domande e offerta. Nella stessa Germania, raccontava il sole 24 ore appena domenica scorsa, nella land di Porsche, Bosch e Daimler, l'area di Stoccarda, tra le più industrializzate del paese, mancano 200.000 lavoratori esperti, ma anche manodopera di medio-basso profilo, autisti, magazzinieri, camerieri, giardinieri, infermieri o assistenti sociali e perfino maestre d'asilo. Le aziende, che fanno? Li cercano all'estero o tra rifugiati, ma al comune non è sempre mezzo gaudio, eppure l'Italia avrebbe i suoi spazi avanzati dove poter assorbire l'offerta qualificata, se fosse sufficiente. Pensiamo ancora all'Umbria, al distretto dell'aeronautica, alla meccatronica, ai servizi per le imprese. Di tutto questo, chi ha responsabilità politiche dovrebbe innanzitutto interrogarsi, individuare una strategia operativa, fuori dalle demagogie dei barconi, o delle gare sull'onestà, che qualche riscontro elettorale sicuramente produrranno, ma che al paese che produce poco servono. Insomma, le domande ce ne possiamo fare parecchie. Giuseppe Castellini, questa fuga di giovani, che poi potrebbe anche tradursi, in realtà, anche in un rientro, almeno di parte di loro, dopo un'esperienza lavorativa, dopo un corso di formazione, un master, che potrebbe essere positivo. Potrebbe essere positivo, ma si rischia di disperdere tante energie. Non è solo quello. Il problema è che, chiaro, i ragazzi oggi girano, vai a, che ne so, mio figlio sta a Vienna, con 70 euro, vai, torni, con l'era. Questo è positivo. Non è positivo quando accade quello che è accaduto, che noi passiamo in Italia da 67.500 persone che partivano nel 2010 e andiamo a 155.000, qualcosa è accaduto. Non sono le tariffe aeree che hanno agevolato. Vediamo, vogliamo vedere l'Umbria, sempre il 2010. Se andiamo, l'Umbria c'è anche il dato 2007, quindi prima della grande recessione. Nel 2010 partivano 2.458 persone, partivano, intendevo, proprio cambiavano residenza, non è che magari sta, cambiavano, proprio si cancellavano. Nel 2010, nel 2017, 4.692, anzi gli Umbri partono un po' meno, anche lì perché, 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 in Umbria, la famiglia. Ancora c'è un po' il focolare. Perché l'aumento in Umbria è stato il 91% in sette anni, in Italia è stato il 129, con i dati che ho dato prima. Ma nel 2007, allora lì sì, ancora non c'era una cosa dell'oro, erano 637 che partivano. Quindi è chiaro che non è interpretabile solo col fatto che vogliono andare di più. Vanno via di più perché trovano meglio le opportunità, e poi che tornino a punto interrogativo. Però posso dire una cosa, che mi ha sollevato il professor Umbria, un ricordo che dice tutto, però. Proprio in questa, mi faccio riferimento a quello che diceva il presidente, anche di una mentalità un po' complessiva in ritardo. Cioè, non è che poi si può dare una colpa sulla politica. L'Italia era indietro, dal 2000. Non ha capito che il mondo cambiava, insomma. L'Italia sta bene, c'ha nove volte il PIL di ricchezza, c'ha un'economia sommersa che dicono che sia il 15, in realtà, secondo me, sono più d'accordo con l'Eurispa, che è un terzo. Quindi ha dei galleggiamenti nei momenti di crisi. Allora, proprio in questa stanza, qui, lì esattamente, c'è stata una trasmissione, qualche anno fa, ma che parliamo di sette, otto anni fa, in cui il tema era la Cucinelli che aveva deciso di andare in borsa. E c'era Cucinelli. E gran parte delle persone, non facciamo nomi, lo sconsigliavano, ma perdi questa tua dimensione. E lui risponde che tutti i più grandi esperti che aveva sentito le avevano detto che andando in borsa, quindi acquisendo capitale, avrebbe potuto rafforzare l'azienda e andare ancora su mercati più forti. Quindi lui fece una scelta, tra una citazione di Sant'Agostino e una di Marco Aurelio, però fece la scelta giusta contro sei che gli dicevano no, questo era il clima ancora sette, otto anni fa, anche esperti. Allora, è chiaro, quando tu ti trovi in quel clima lì, con quelle capocce, avevamo tutti capocce in quel modo, però voglio dire, è chiaro che se Cucinelli avesse non fatto quella scelta, perché gli ha permesso, e lui diceva, perché questo ci permette anche, entrando nel Consiglio di Amministrazione, puoi entrare il figlio di Montezemolo, mi sembra, eccetera, e anche una capacità di competenze di confronto. Lui aveva capito che non poteva reggere, ha vinto lui, è stato intelligente. Ora però, questi casi sono casi. Abbiamo dei ritardi, che non è solo dell'imprenditore, ma del contesto sociale che è a costruzione. Ci vuole più coraggio, vorrebbe dire, anche se ribalto un ragazzo che prende parte, il coraggio se l'ha. L'altra cosa, e che faccio una mia colpa, non personalmente, però in generale, anche la stampa, no? Cioè qui è avvenuto qualcosa di gravissimo in questo Paese, e ce ne siamo accorti dopo dieci anni. Un fatto fondamentale sono gli investimenti pubblici, tra l'altro in un Paese, come si diceva nel dopoguerra, che i capitalisti non hanno capitato. Investimenti sono fondamentali, perché fanno anche quella parte di ricerca, cioè su cui poi i privati possono inserirsi. Questo è stato il modello misto, che ha funzionato, che oggi probabilmente non... Però quello è stato il modello misto dello sviluppo italiano degli anni 50 e 60. Se non c'era l'Eni che facevano questi grandi investimenti, non li faceva nessuno. Ma noi siamo riusciti in un Paese che è riuscito, noi avevamo il 3% di investimenti pubblici sul PIL nel 2007. Sai quanto abbiamo avuto all'uscita del governo Gentiloni? L'1,9, che non ci fai nemmeno le manutenzioni, nel silenzio di tutti. Allora, qui dobbiamo stare più attenti, cioè noi abbiamo segato l'albero dove stavamo per dare 500 euro ai diciottenni, per altre stupidaggine e già. Noi abbiamo ridotto una cosa criminale che non è accaduto, credo, nella storia dell'economia, che nel momento della recessione tu cerchi di fare investimenti che hanno un moltiplicatore, che il professore... Insomma, nemmeno bisogna quello spiego, che hanno un moltiplicatore... Se tu, per esempio, fai una spesa corrente, un moltiplicatore è 0,50, normalmente. Se fai una spesa per investimenti, dipende, ma almeno uno ce l'ha, se non 1,30, 1,50, come produzione di ricchezza. Noi siamo riusciti a ridurre nel momento della recessione dal 3% del PIL all'1,9 del PIL. E qui potremmo aprire... Questo governo qualcosina ha fatto, ma siamo al 2,1, cioè a niente. Potremmo aprire tanti capitoli come quello di indebitarsi... Ok, ma per cosa? Si potrebbe aprire, insomma, il capitolo anche su questo. Dicevamo, forse serve più coraggio, anche se detta con la scheda questi 4.000 in genere sono la maggior parte giovani che prendono e partono, non hanno la valigia di cartone, hanno il trolley, però il coraggio ci vuole per lasciare comunque... Comunque, un'altra cosa controcorrente, ma di un secondo soltanto. Io ritengo che per far ripartire le famiglie imprenditoriali e avere coraggio, i ragazzi devono andare fuori, assolutamente. Il problema è riportarli qua, non è non mandarli fuori, perché è estremamente importante. Se uno fa un viaggio a Bruxelles, a Strasburgo, Berlino, a Francoforte, soltanto vedendo per 3-4 mesi come funziona, e qui l'Erasmus è stato fondamentale, è stato estremamente importante. E uno capisce come... Poi dopo bisogna riportarli qua e creare le condizioni che qui loro possano, perché chiunque rientra ha successo garantito. Certamente. Presidente. Io parto da quest'ultimo esempio perché anch'io penso che le influenze esterne possono solo aiutare. Mio padre nel 1963 si è laureato in ingegneria, nel 1963 era in ingegneria elettronica, quindi una delle prime classi laureate, si è dovuto andare all'estero a lavorare, perché al tempo l'Italia non aveva quella domanda, quindi ha fatto esperienze all'estero e è ritornato in Italia, ha aperto la sua azienda e poi la storia, grazie a questo, oggi sono qua con la mia industria. E lui ha imparato molto dall'estero e me lo ricordava sempre quello che ha visto nelle multinazionali americane, inglesi, in clima internazionale e via dicendo. Però è tornato. Però è tornato, ma è tornato perché c'è quella visione del Paese e quelle condizioni che lo permettono, perché è certo che ci vuole coraggio, ma c'è anche un bisogno che muove il coraggio. Quindi se le ragazze vanno fuori è perché di bisogno virtù, alla fine bisogna lavorare, bisogna mettere a frutto gli studi e gli sforzi fatti. Però ritorno all'esempio che è stato portato prima. Perché non impariamo dalla storia? L'esempio che è stato portato di Cuscinelli è esattamente quello che cerchiamo, cerco di ripetere continuamente, cioè quella scelta coraggiosa al tempo, sicuramente, fatta in modo convinto, anche controcorrente, ha dimostrato che poi è stata la scelta giusta. Bene, con il senno del poi tutto viene facile. Però, 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 i temi che venivano ricordati da Brunello del perché era importante sono temi tuttora attuali. Sono temi tuttora attuali. Perché? Perché se vogliamo ritornare a far crescere le nostre imprese ecco che c'è il tema dell'apertura, c'è il tema della dimensione, c'è il tema dei capitali, c'è il tema di non essere chiusi in se stessi. Questo è la base. Visione del Paese. Visione del Paese è un clima favorevole a questo. Oggi non c'è. O se ce n'è, ce n'è poco. Però bisognerebbe raccontare sempre più ai nostri ragazzi di quelle industrie che non trovano quella manodopera che appunto, come in Umbria e nel resto del Paese, non solo Italia, ma d'Europa, c'è ancora uno scollamento tra domande e offerta. E questo è un problema. Poi, mi dispiace se non abbiamo bisogno dei letterati che produciamo. Mi dispiace. Però abbiamo bisogno di tanti tecnici che oggi non abbiamo. Oggi il 4.0 offre un'opportunità unica che molti l'hanno raccontata come invece anche qui negativa per l'occupazione. Di nuovo, tutti i concetti dove l'innovazione, dove la rottura dell'equilibrio, mi piace ricordare, è vissuta come un problema. In realtà, più si vive il cambiamento in senso positivo, che ovviamente è complicato, perché poi nel cambiamento c'è una sfida dove puoi vincere e come puoi perdere. Ma se il Paese non vuole più vivere un cambiamento e guarda solamente al passato ricordando cose che mai più ci saranno e francamente non sono neanche più attuali, no? Perché è vero, abbiamo bisogno di investimenti pubblici? Assolutamente sì. Poi abbiamo un tema di bilancio. Il problema è che le risorse di bilancio, non poche, perché metà del PIL è quasi spesa pubblica, quindi non è che il PIL è italiano che non è piccolo, la spesa pubblica è marginale, basta vedere quello che è la spesa pubblica degli Stati Uniti in termini percentuali sul PIL rispetto alla nostra, quindi parliamo del primo Paese industriale. Il problema è che continuano ad esserci azioni, come dire, volte al consenso che minano il futuro. Prima è stato ricordato il reddito di cittadinanza in forma velata, però dal punto di vista nostro come Confindustria è un'opportunità straordinaria di non investire le risorse in quello che invece produrrebbero occupazione, futuro, futuro e connessione dell'Italia nel mondo. E questo è quello su cui dobbiamo ritornare, mentre purtroppo, mi permette, e vede tutto coerente, anche in termini di politica generale, il Paese si sta isolando dal mondo, perché non è normale che un Paese manifatturiero vocato all'asportazione come quello nostro che, ripeto, è il nono al mondo, è il secondo in Europa. Stiamo litigando col nostro partner commerciale numero due, la Francia, il nostro partner commerciale è il secondo, dopo la Germania, il terzo sono gli Stati Uniti. Allora, questi sono temi che va bene tutto, ma non ci si può scherzare. La politica ha una responsabilità, certamente, la politica intendo... Ma io non guardi, più che la politica io penso alla collettività tutta, perché poi la politica è espressione della democrazia, non è che... E sono i tempi nuovi della politica che guarda le prossime elezioni, non guarda più avanti, che guarda, che guarda, non più neanche a sei mesi, che guarda a un mese, a due mesi, quindi vuole capitalizzare a un mese. Purtroppo, di non avere una visione e poi di ragionare... ma i business plan sono almeno quinquennali, triennali, decennali in alcuni casi. Esatto, la Germania mantiene il suo primato in virtù di pensieri lunghi dieci anni. Certo. Andiamo in conclusione, salutandoci, ringraziando il Presidente. Io sono un flash col Professor Cardoni. Gli studenti che lei conosce quotidianamente sono ottimisti o no? Perché il timore è che rispetto ai loro coetanei di trent'anni fa abbiano meno fiducia del futuro. Devo dire, ci sono partito con la polarizzazione e ci concludo. Ahimè ho la classe polarizzata perché ho gli studenti molto motivati, molto bravi e loro sono ottimisti, hanno le risorse e l'iniziativa per poi acquisire al meglio le competenze e spesso questi me li perdo nel senso che vanno a prendere altri percorsi che ahimè vanno fuori regione, quelli un pochino più adagiati e vedo che hanno proprio difficoltà ad attrezzarsi nel cogliere le sfide anche locali per cui il tema secondo me è un po' questo il tema critico di oggi cioè trovare una politica anche generale anche educativa in questo senso che sia in grado di valorizzare i talenti ma farli magari rimanere qua o quantomeno creare le condizioni per farli ritornare ma allo stesso tempo trovare le leve per valorizzare al meglio anche diciamo le persone con magari una dinamica un pochino meno incentivanti certamente io ringrazio il professore Andrea Cardone ringrazio Italo Carmignani il messaggero Giuseppe Castellini nuovo Corriere Nazionale la nostra puntata non finisce qui perché tra poco parliamo a proposito di idee di crowdfunding ovvero di un sistema di sostegno alle start-up lanciato da CNA salutiamo il presidente Antonio Luni ringraziandolo di essere stato con noi lei ovviamente ottimista assolutamente sì sicuramente il nostro è un grande paese quindi troverà la soluzione benissimo la troveremo anzi non troverà la dobbiamo trovare la troviamo tutti insieme ovviamente grazie ad Antonio Luni andiamo in pubblicità e poi seconda parte di questa nona puntata parlando di start-up a tra poco in questa seconda parte della nostra nona puntata di in Umbria ci occupiamo sempre di impresa ma di start-up ci occupiamo di una novità che è stata presentata in questi giorni perché dall'8 febbraio sulla piattaforma Apple la prima azienda di crowdfunding in Italia è partita la campagna che promuove alcune start-up Umbria e la possibilità di sostenerle anche con piccoli contributi l'iniziativa lanciata da CNA che conosceremo un po' più da vicino stasera in questa nostra seconda parte e attraverso la testimonianza di CNA e attraverso la presenza di alcune di queste start-up nei nostri studi sono sei i progetti e a parlarcene salutiamo ospite dei nostri studi Carlo Rossini che fa parte appunto di Fidimpresa CNA e che ringraziamo ovviamente per essere con noi buonasera e con noi ci sono invece tre rappresentanti del mondo delle start-up Umbre a partire dalla sinistra dei teleschermi Elisa Di Toro Kids Beat Festival buonasera poi spiegheremo di che si tratta ovviamente Amalia Allegro per Cremiamo buonasera e Erika Orti di Anonima Distillazione buonasera bene prima di addentrarci in questo mondo di start-up perché poi viaggeremo tra appunto festival dedicati ai più piccoli al mondo degli animali al gin prodotto made in Umbria e poi conosceremo anche altre realtà non presenti in studio ma abbiamo delle clip che ci aiuteranno ad approfondire Rossini come nasce quest'idea di CNA di buttarsi verrebbe da dire in questa scommessa beh nasce dal lavoro quotidiano che CNA fa in Umbria per trovare continuamente nuove vie per i propri associati e per chi vuole essere imprenditore e in questo caso si tratta di un approfondimento ormai in piedi da qualche tempo sul credito e la finanza un originale modo di finanziarsi che nasce dalla possibilità offerta dalla rete di far vetrina con il web di una propria idea di un proprio progetto e cercare contributi persone che lo sostengano in maniera diffusa si tratta di uno strumento di microfinanziamento tra l'altro di questi giorni la notizia che proprio grazie a quest'opera di crowdfunding sappiamo negli anni una manifestazione come il Festival Internazionale del Giornalismo ha trovato risorse importanti è arrivato un finanziatore americano che magari non è proprio il gettone classico del crowdfunding 250 mila dollari però evidentemente muovere l'opinione pubblica serve a qualcosa e c'è anche chi ottiene risultati così corposi la selezione come avviene cioè CNA come sceglie queste realtà intanto siamo partiti proprio dai primi casi che abbiamo visto intorno a noi dalla crescita in questi anni di questa nuova forma e modalità già un anno fa abbiamo iniziato i primi approfondimenti poi qualche mese fa abbiamo scelto di approfondire l'argomento con una piattaforma in particolare che è Eppela in un particolare ambito del crowdfunding che è quello del sistema ricompensa ce ne sono di diversi tipi noi abbiamo scelto questo come funziona? diciamo che la partenza per ogni forma è la stessa c'è un'idea che diventa progetto che viene messa in rete per poter trovare finanziamento una volta che arriva il contributo diventano diverse le forme di restituzione di quel contributo si parte anche nelle forme più datate dalla donazione semplice si arriva invece a forme ormai di ricompensa di restituzione o addirittura di partecipazione alla società al capitale una sorta di azionariato la nostra è una prima sperimentazione che prende il crowdfunding nella forma della ricompensa la ottima occasione che abbiamo avuto nelle settimane scorse è stata quella del premio cambiamenti è un premio istituito da CNA regionale e nazionale ha una dimensione nazionale declinata nelle regioni abbiamo avuto 30 imprese concorrenti con altrettante idee al termine di questo concorso abbiamo proposto alle 30 aziende un percorso di formazione offerto da CNA per approfondire i temi del crowdfunding 20 aziende sono partite se ne sono aggiunte per la verità altre 5 fuori dal premio cambiamenti e le 6 aziende che oggi sono con la loro proposta sulla piattaforma appela.com sono il risultato di un primo esperimento che parte di questa prima chiamiamola selezione che ha premiato queste 6 idee come detto abbiamo delle ospite in studio tra poco le coinvolgiamo ma conosciamo anche quelle realtà che non sono qui in studio abbiamo scelto questa slide mi faccio un crowdfunding un po' come con la stessa disinvoltura con cui un ragazzino si può fare un hamburger nel senso che vogliamo assaggiare davvero queste nuove idee e noi iniziamo visto che abbiamo scelto questa metafora proprio ad assaggiare quella che è una particolarità che nasce nella nostra regione la pizza cono abbiamo una clip che ci presenta questa proposta questa idea con Elisa Proietti vediamo un po' come 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 salve a tutti sono Patrizia e voglio presentarmi la mia attività sono dieci anni che abbiamo aperto la nostra pizza a cono quindi proporre un modo innovativo per mangiare la pizza l'abbiamo pensata appunto a forma di cono perché è molto molto semplice anche da mangiare passeggiando è un prodotto genuino perché nasce dagli ingredienti semplici della pizza con un lungo processo di lievitazione che la rende anche molto digeribile adatta per tutte le età in questi dieci anni abbiamo visto aumentare sempre di più la nostra clientela che vediamo insomma contenta soddisfatta e oltretutto ci sta chiedendo la possibilità di cuocere queste pizze anche a casa nel forno tradizionale quindi abbiamo pensato a un supporto un elemento che potesse fare in modo che il cono venga gotto in verticale come deve essere quindi abbiamo pensato a un vassoio in acciaio inox che con un taglio laser crea la forma del supporto del cono della pizza a forma di cono e in un solo vassoio ne possiamo cuocere contemporaneamente 8 nel forno di casa addirittura entrano due vassoi quindi 16 persone accontentate con una sola cottura veramente un'idea eccezionale secondo noi insomma va portata avanti questa idea ma come tutti saprete purtroppo hanno tutte le idee tutti i progetti hanno bisogno di fondi quindi chiediamo un piccolo aiuto a tutte le persone che vorranno aderire a questo progetto per la progettazione la realizzazione del vassoio e i materiali e quindi ecco un piccolo aiuto ci fa comodo grazie e questa era Patrizia per la prima delle sei esperienze che andremo a conoscere stasera a Pizzacono non sapevamo abbiamo scoperto oggi che Perugia è un po' la capitale di questa sperimentazione e dovremo per forza assaggiarla prima o poi per anche avere un incentivo in più a dare una mano a Patrizia e ai suoi collaboratori parliamo però restiamo nel mondo dei piccoli perché poi la Pizzacono immagino che sia un prodotto destinato soprattutto a loro con Kids Beat Festival Kids Beat Festival c'è con noi Lisa Di Toro leggo un festival ultra galattico per piccoli esploratori digitali di che si tratta? sì questo è il claim come dicono i pubblicitari il sottotitolo che ci è piaciuto dare a questo festival festival ultra galattico per piccoli esploratori digitali è un festival quindi un evento una festa di creatività digitale dove diciamo lo sforzo è quello di la sfida è quella di unire proposte di apprendimento e di divertimento ai linguaggi della contemporaneità quindi a linguaggi offerti e aumentati dalle nuove tecnologie da tecnologie digitali è un festival per bambini ma pensato per offrire dei momenti di apprendimento di scoperta di sperimentazione soprattutto di festa di divertimento condivisi per i bambini e le proprie famiglie vediamo infatti qualche immagine proprio legata alla clip ricordiamo che all'interno della piattaforma Eppela che è collegata anche al sito della CNA potete trovare ovviamente tutti questi video che vi stiamo proponendo questa sera e che spiegano ancora meglio in maniera più approfondita appunto quella che è un po' la natura di questa proposta perché l'obiettivo del crowdfunding perché avete scelto questo strumento di reperimento fondi Sì allora Kids Fit è un festival che giunge quest'anno alla sua quarta edizione nel tempo ovviamente si è autofinanziato con il lavoro dei suoi organizzatori del team di progetto contributi privati contributi talvolta pubblici questa volta abbiamo scelto di far affluire anche questo metodo di microfinanziamento partecipato per due motivi il primo motivo è la natura stessa Kids Fit è un festival della città e per la città parliamo della città di Perugia ovviamente del centro storico di Perugia è un festival che nella sua natura ha quella proprio di trasformare il volto stesso della città prendendo dei luoghi storici anche importanti come la Galleria Nazionale dell'Umbria e diciamo per qualche giorno stravolgerne il volto grazie alla creatività dei ragazzi questo con la partecipazione di artisti e formatori sia del territorio locale del territorio nazionale anche internazionale perché abbiamo la fortuna di collaborare con ambasciate essere e istituti di cultura dicevo appunto è un festival della città per la città quindi il crowdfunding ci sembrava il giusto modo per rendere ancora di più partecipe la città e la nostra comunità alla realizzazione del festival il crowdfunding in particolare in questa sede non è finalizzato all'intero svolgimento del festival perché comunque diciamo è una macchina organizzativa operativa che ha la sua importanza ma in questo momento storico particolare in cui diciamo c'è una forte giusta attenzione ai cambiamenti climatici con una mobilitazione globale che parte tra l'altro proprio dalle nuove generazioni ci sembrava giusto e doveroso dedicare questa edizione 2019 all'ambiente e per cui abbiamo deciso di finanziare con questa modalità una installazione interattiva dedicata al riciclo alla trasformazione dei materiali che possa rendere visibile e anche godibile l'apprendimento rispetto a questa tematica per tutti i bambini certamente quindi si parla anche di ambiente e anche di educazione ambientale da questo punto di vista restiamo un po' nel mondo così dell'educazione perché l'educazione in qualche modo affettiva in questo caso per gli amici a quattro zampe non si finisce mai come dire di diffonderla di divulgarla parliamo di un'altra esperienza di start up Cremiamo siamo con Amalia Allegro Cremiamo è forse un nome che potrebbe non dare l'esatta percezione di quello di cui vi occupate sì qualcuno ci ha anche scambiato per una gelateria crema ci ha fatto piacere perché magari non parliamo di crema ma di cremazione di cremazione il nostro era un gioco di parole su cremiamo amo quindi se lo ami fai la scelta giusta la cremazione noi siamo una start up nata tre anni fa con un progetto Pet4Life è una piattaforma web quindi un sito pet4life.eu all'interno di questo sito abbiamo creato 11 servizi dedicati al mondo degli animali ho un gatto vado via tre giorni non so come badare a lui ho bisogno di qualcuno cerco il servizio pet sitter di Pet4Life vado in vacanza voglio portare l'animale con me cerco il posto che possa accogliere cerco il servizio Pet Welcome di Pet4Life questo è quello che abbiamo dedicato in questi tre anni adesso finalmente siamo pronti per offrire l'ultimo servizio il più triste sì ma purtroppo ci si arriva anche più dignitoso se vogliamo assolutamente sì quello di dare un ultimo saluto umano e dignitoso all'animale che ci è stato vicino tutta la vita e la cremazione per noi è la scelta più giusta più civile e più umana e ad oggi qui in Umbria questo non era possibile perché c'è una legge una legge nazionale la 1069 che dichiara l'animale defunto che è morto un rifiuto e come ci battiamo sempre sul benessere animale gli animali d'affezione gli animali che aiutano i corpi di polizia sono parte integrante della nostra vita e poi finisce tutto e diventano dei rifiuti c'è qualcosa che non va e noi finalmente ci siamo riuscite io e la mia social e siamo uscari ce la stiamo facendo il crowdfunding è destinato a questo esatto la scelta del crowdfunding anzi più che scelta è stata una proposta di CNA e abbiamo siamo state felicissime di accogliere ed è una un'ulteriore battaglia che stiamo affrontando per dimostrare che si può scegliere si può fare la giusta scelta e la giusta scelta anche per un cambiamento perché in questa regione fino adesso non c'era la possibilità di scegliere e purtroppo ti dicevano lo devi incenerire con i rifiuti chi ama gli animali sa che questo è qualcosa di non accettabile bene in bocca al lupo ovviamente anche viva il lupo cremiamo viva il lupo e poi insomma il lupo è anche un simbolo se vogliamo di alcune parti dell'Umbria assolutamente che non citiamo a caso ringraziamo ovviamente anche Amalia Allegro ricordiamo sempre chi volesse approfondire questi temi anche conoscere più da vicino queste start up la piattaforma Eppela dove ritrovare anche i filmati che vedete in sovrimpressione e chiudiamo il nostro tour di testimonianze a proposito di lupo andiamo a Gubbio perché siamo con perdone siamo con Erika Orti Erika Orti Anonima Distillazioni Anonima Distillazioni per produrre il gin sì gin e non solo come nasce questa idea del gin di questa allegra cricca che purtroppo non siamo potuti venire tutti è nata da un'idea di un paio d'anni fa di Paola e Gabriele che dopo anni di gestione di un bar cocktail bar a Gubbio maneggiando queste bottiglie di gin di noti marchi hanno visto che spesso c'era scritto fatto con ginepro italiano approfondendo abbiamo scoperto che in Umbria cresce uno dei migliori ginepri al mondo e da lì è partita l'idea ma perché non proviamo a farlo anche noi e da lì è nata una ricerca molto lunga e siamo arrivati a riscoprire un'antica ricetta che è quella dell'acqua mirabilis 4312 acqua mirabilis è il nostro primo prodotto che dal 1600 avete realizzato l'impianto di distillazione che vediamo non abbiamo deciso di non farcelo fare ma di aprire una distilleria e iniziarlo a fare noi dopo il gin sono nati altri prodotti che facciamo e niente ci siamo lanciati in questa avventura che ringraziando Dio sta andando molto bene infatti in questa campagna di crowdfunding che ci è stata proposta dalla CNA e da Eppela stiamo chiedendo una mano per avere qualche attrezzatura in più visto che non riusciamo più quasi a soddisfare le richieste che ci arrivano facciamo tutto a mano la domanda è superiore all'offerta sì attualmente sembriamo un gruppetto di gnomi etichettiamo facciamo tutto a mano insieme al nostro mastro distillatore quindi siamo siamo stretti nel nostro spazio accanto alle nostre linee che sono appunto due gin una linea di aperitivi e dei un amaro affacciamo anche un servizio di su misura ossia chiunque può venire da noi chiederci di sviluppare insieme un suo prodotto non necessariamente un gin può essere un amaro un aperitivo un bitter e insieme si studia una ricetta e da lì si può partire con delle produzioni su commissione di qualsiasi tipo e partiamo da quantitativi piccolissimi da 10 litri insomma immagini che ci danno anche un po' la cifra del impegno che queste start up hanno messo nelle loro idee quando si dice le idee non bastano insomma le idee sono importanti poi bisogna dare corpo a queste idee tra poco conosceremo altre due realtà le ultime due che non abbiamo qui in studio ma che andremo ad approfondire intanto spostandoci a Castelluccio di Norcia che è un luogo simbolico di ripresa di rinascita per quanto riguarda il servizio di webcam che vuole ripartire anche grazie a questo crowdfunding e poi andremo a conoscere invece Bibi Burger intanto facciamo così andiamo subito in Valnerina andiamo a vedere di che si tratta una webcam per raccontare un territorio il 30 ottobre 2016 la mia vita quella della mia famiglia e di tutti gli abitanti di Castelluccio è cambiata per sempre il terremoto ha distrutto le nostre case i nostri campi le nostre attività ha infranto i nostri sogni abbiamo dovuto dire addio alla terra che ci ha visto nascere e crescere alle sue tradizioni alla nostra quotidianità con le strade chiuse il bosco è rimasto completamente isolato per mesi l'unico legame che abbiamo avuto con Castelluccio è stato grazie a una webcam che ha resistito alle scosse e ha continuato a fare il suo lavoro osservare il paese dall'alto permettendoci di vegliare sul nostro borgo a due anni da quel terribile giorno nulla è cambiato o quasi le macerie sono ancora lì lì continuano a essere i nostri cuori anche la webcam è sempre al suo posto ma non funziona più e noi abitanti di Castelluccio ci sentiamo come ciechi lontani non più solo fisicamente dal nostro paese ma anche virtualmente senza quell'occhio a tranquillizzarci a dirci che il nostro borgo è ancora lì ferito ma bello come sempre una soluzione però c'è e si chiama Scenari Digitali Scenari Digitali nasce dal desiderio di quattro amici di installare webcam e quindi occhi elettronici lì dove l'occhio dell'uomo non può arrivare regalando panorami mozzafiato e dando informazioni anche di carattere meteorologico alle comunità che abitano quei luoghi ma anche a chi vive dall'altra parte del mondo connettendo donne e uomini giovani e adulti con luoghi impervi e alle volte anche inaccessibili ma di immane bellezza e che altrimenti rischierebbero di rimanere nascolti per sempre Scenari Digitali nasce da un sogno condiviso quello di Agnese Leonardo Luciano e Massimiliano che sarei io ma Scenari Digitali può essere anche il tuo sogno e per realizzarlo non devi far altro che sostenerci con il tuo aiuto potremo ripristinare l'intera postazione acquistando una nuova telecamera 4k un nuovo impianto fotovoltaico e coprire i costi di connettività in più avrai la possibilità di sostenere la ripresa delle attività di Castelluccio sostienici 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 e questo abbiamo visto era Scenari Digitali la Valnerina Carlo Rossini nessun posto come la Valnerina è simbolicamente legato la voglia veramente di ripartire e anche un crowdfunding può aiutare in questo assolutamente sì il racconto di questi progetti è il racconto di un'Umbria con tanti volti con tante realtà con tante energie energie e positività energie da condividere e condivisione è una parola chiave lo è per il crowdfunding lo è per ogni comunità lo è per le associazioni di categoria per CNA per un'associazione di categoria com'è CNA Umbria e è stato davvero importante veder lavorare insieme queste realtà queste aziende questi imprenditori con idee che si sono messi tutti intorno ad un tavolo per chi come me ha avuto la fortuna di seguire un po' i lavori accorgersi che con il passare dei giorni e del tempo ci si dava anche dei consigli si entrava sempre più in rapporto e in sintonia si dava spazio alle idee messe insieme ecco tra l'altro ricordiamo che un progetto possiamo dirlo pilota un laboratorio che potrebbe avere soprattutto questo dipende anche dalla risposta che speriamo sia davvero proficua un proseguo non solo per le sei realtà ma magari per chi da stasera vedendo anche questo spazio possa dire perché la mia idea non proviamo a sviluppare il mondo del crowdfunding della condivisione della rete è un mondo in crescita dappertutto lo è anche nel nostro paese lo è nella nostra regione lo deve essere anche nella nostra regione l'idea di CNA è proprio questa proprio questa noi andiamo a conoscere l'ultima realtà quella di Bibi Burger dalla Valnerina non ci spostiamo di molti chilometri perché l'idea il progetto di Massimiliano Bisciaio imprenditore spoletino da 15 anni attivo nel settore della ristorazione vediamo San Tommaso diceva fino a quando non vedo non credo è un detto che di solito si pensa al momento dell'acquisto di un prodotto che sia di uso alimentare o di utilità decido di acquistare un'auto usata e mi chiedo ma il chilometraggio sarà originale o sarà stato manomesso decido di acquistare un hamburger e mi chiedo che tipo di pane mangerò che tipo di carne ci sarà nel macinato la risposta che ho deciso di dare a tutte queste domande è racchiusa in una parola trasparenza la mia azienda offre trasparenza ordini un BB Burger e te lo vedi nascere sotto ai tuoi occhi perché ho deciso non solo di cucinarlo a vista ma di fare a vista anche tutta la produzione del pane e la macinatura della carne faccio crowdfunding perché ho deciso di condividere la nascita del BB Burger con tutti voi perché alla fine il mio prodotto è anche il vostro prodotto BB Burger perché gli hamburger non sono tutti uguali e questo era BB Burger l'ultima delle sei esperienze che abbiamo conosciuto più da vicino che si affacciano al mercato finanziario popolare ovvero ai contributi attraverso il crowdfunding che ognuno anche di coloro che ci stanno ascoltando potrebbe fornire anche attraverso una piccola donazione noi torneremo tra poco dopo l'ultima fascia pubblicitaria per salutarci con i nostri ospiti per un ultimo passaggio in particolare con Carlo Rossini che è di Fidimpresa e quindi quando si parla di Fidimpresa si parla di finanziare le imprese non solo le start-up ma anche quelle imprese del mondo artigiano in questo caso che vogliono sviluppare le proprie idee da tra poco ultimo spicchio di questa nona puntata di In Umbria dedicata al mondo dell'impresa in senso lato abbiamo avuto il presidente di Confindustria Aluni in questa seconda terza parte ci siamo occupati di crowdfunding di idee di start-up che la CNA attraverso la piattaforma Apple sta contribuendo a sostenere ma abbiamo Carlo Rossini Fidimpresa Umbria qualche numero per capire come il consorzio Fidi di CNA operi non solo negli ultimi tempi negli ultimi mesi ma anche negli ultimi anni 9.200 le imprese socie finanziamenti garantiti negli ultimi 20 anni oltre 26.000 la media negli ultimi 20 anni oltre 40.000 euro a finanziamento un importo complessivo di un miliardo oltre un miliardo di finanziamenti e soprattutto una forbice quella che va prima del 2008 684 milioni e dopo il 2008 dopo la grande crisi 391 milioni già da questa disparità si capisce che la crisi ha inciso pesantemente ma lo si sapeva nel settore artigiano come come staffi di impresa soprattutto questi numeri che cosa questo termometro che cosa ci dice ma in larga parte ci dice ciò che conosciamo ma deve anche dirci che è il momento di trovare nuove vie ma investire anche ancora sulle vie che conosciamo da anni in particolare quella del credito che è un tasto spesso dolente quando si parla con un imprenditore è un tasto dolente lo è stato in questi anni ancora di più lo è in maniera particolare per i piccoli che sono il 95% con pochi addetti della nostra regione cioè le imprese con 10 o meno addetti sono la stragrande maggioranza dei nostri operatori economici ecco in questi anni lo dice Banca d'Italia anche negli ultimi dati pubblicati è stato molto complicato per queste imprese accedere al credito e quando l'hanno fatto lo hanno fatto a tassi a costi molto alti e quindi dobbiamo intervenire su questo lo dobbiamo fare anche con lo strumento degli interventi in garanzia che da anni come consorzio FIDI come FIDI impresa pratichiamo avete in corso oltre 2.100 finanziamenti per un importo complessivo di 109 milioni di euro per una piccola regione come l'Umbria davvero numeri significativi si può fare di più si può fare meglio da chi dipende dai professionisti o dalle imprese che magari spesso non conoscono fino in fondo questi strumenti ma si può fare di più partendo da ciò che ci siamo detti finora negli ultimi anni c'è stato quello che può essere definito un fallimento di mercato gli imprenditori che cercano credito i piccoli che cercano credito e il sistema bancario che non riesce ad erogare in forma sufficiente questo credito dobbiamo trovare delle soluzioni a questo problema prima di tutto e alcune novità ci stanno ci stanno aiutando è di qualche mese fa l'avvio dell'operatività di Umbria e Nova con i fondi PortFest abbiamo ormai in dirittura d'arrivo la riforma del fondo centrale di garanzia cioè la garanzia prestata dallo Stato alle banche per operazioni di finanziamento di imprese dal 15 marzo dovrebbe essere operativa la cosiddetta tripartita una forma che conoscevamo ormai in attuazione possibile da anni ma che dal 15 marzo entrerà a pieno regime e in vigore e poi la cosiddetta applicazione della lettera R che si rifà a un decreto legislativo del 98 per cui l'accesso al fondo centrale di garanzia viene mediato fino ad alcuni importi proprio dai consorsi di garanzia che fanno da garante praticamente esattamente Regione Umbria ha deliberato ad inizio anno questo provvedimento che adesso all'esame della conferenza Stato-Regioni vediamo cosa succederà nelle prossime settimane ma abbiamo elementi per dire che strumenti da mettere in atto stanno aumentando stanno aumentando e questa è una buona notizia chiudiamo con dunque positività e ottimismo questa nostra puntata come l'avamo fatto chiedendo proprio al Presidente di Confindustria Lunni se si sentiva ottimista visto che di problematiche purtroppo la nostra economia ne vive tante non solo infrastrutturali io ringrazio Carlo Rossini Fidimpresa CNA ringrazio le rappresentanti delle start-up che stasera abbiamo conosciuto nei nostri studi quindi Elisa Di Toro di Kids Beat Festival Amalia Allegro Cremiamo e Erika Orti Anonima Distillazioni chiudiamo la nostra slide finale io speriamo che me la cavo abbiamo ripescato la famosa pellicola con l'indimenticabile Paolo Villaggio la sua spassosissima classe in Campania perché? perché vale un po' per tutti vale per l'economia Umbra vale per queste start-up che abbiamo conosciuto più da vicino e ovviamente anche per i tanti progetti di cui vi abbiamo parlato stasera ma vale anche per quegli studenti neodiplomati che andiamo a conoscere o meglio nel cui ambito ci immergiamo nell'ultimo servizio di questa puntata dedicato al mondo ITS Academy ovvero la scuola di specializzazione Umbra leader in Italia secondo le graduatorie di settore che forma proprio quelle professionalità di cui il mercato ha bisogno e che spesso purtroppo non si trovano con questo servizio su ITS Academy chiudiamo questa nona puntata ovviamente in Umbria torna dopo le repliche di questo fine settimana venerdì prossimo alle ore 21 grazie creare opportunità creare opportunità per le nuove generazioni fornire conoscenze qualificate ai giovani del territorio e soddisfare i fabbisogni di competenze espressi dalle imprese in una prospettiva di maggiore competitività e sviluppo sostenibile con questi obiettivi è nata nove anni fa ITS Umbria Academy l'Accademia Tecnica di Alta Specializzazione post diploma promossa dal Ministero dell'Istruzione e dalla Regione Umbria e gestita a livello regionale da una fondazione di partecipazione di cui fanno parte associazioni di categoria università istituti superiori ordini professionali e aziende come sviluppare ulteriormente le potenzialità di questo percorso di istruzione terziaria professionalizzante è stato il tema discusso nel corso dell'ultima assemblea pubblica dell'Academy che si è svolta a fine gennaio a Palazzo Donini coordinata da Giuseppe Cioffi presidente di ITS Umbria Academy che ha parlato della possibile ricetta perseguita dall'Istituto di Specializzazione Umbro la ricetta è molto semplice partire dai bisogni presenti e futuri delle imprese e formare i giovani validi motivati e qualificati affinché questi bisogni di competenze delle aziende vengano soddisfatti dalle loro qualificazioni che ottengono attraverso il percorso formativo didattico teorico e pratico che ottengono tramite l'ITS Cioffi ha fotografato la realtà di ITS costruita in quasi dieci anni e oggi riferimento formativo fondamentale per centinaia di neodiplomati nei settori avanzati della meccatronica al sistema casa dalla biotecnologia al digitale fino ad agroalimentare e marketing con un dato su tutti l'80% degli studenti usciti dalla scuola che prevede un corso di 4 semestre e 1800 ore di cui 800 in azienda hanno trovato subito occupazione magari proprio nelle imprese che li avevano inseriti nelle ore di tirocinio e che sono le prime ad avere sete di nuove professionalità qualificate a conferma di un modello duttile e al tempo stesso molto efficace il modello si è rivelato vincente si è rivelato vincente nel territorio si è rivelato vincente in Italia siamo presi ad esempio positivo e questo deve essere un motivo di legittima soddisfazione ma soprattutto di consolidamento delle nostre ambizioni se c'è una cosa che non funziona nell'ITS è che siamo pochi ci sono troppi pochi studenti e quindi anche forse troppi pochi corsi quindi la nostra ambizione è di aumentare il numero di studenti mediante una promozione mediante un orientamento facendo capire alle famiglie ai giovani le potenzialità offerte da questo sistema formativo estendendo andando oltre l'industria l'industria tradizionale estendendo altri settori come possono essere il commercio il turismo l'artigianato dove crediamo che applicando i valori e le pratiche vincenti dell'ITS Umbria a questi nuovi settori emergenti possiamo contemporaneamente favorire l'occupazione e la crescita competitiva di queste imprese il sistema degli ITS è stato sottolineato nell'assemblea annuale a Palazzo Donini presenti tra gli altri anche la presidente Marini il rettore Moriconi la dirigente scolastica regionale Iunti e delegati del mondo del ministero e delle istituzioni bancarie ha dimostrato di essere una risposta al problema del mismatch fra domanda di competenze espressa dall'impresa e profili di competenze reperibili sul mercato del lavoro e la propria efficacia sul versante della creazione di occupazione qualificata per i giovani perché il paese tragga beneficio da questo canale di istruzione post secondaria è tuttavia necessario un consolidamento del sistema nel suo complesso obiettivo che comporta la definizione di un nuovo assetto ordinamentale e di risorse finanziarie certe l'aggiornamento della legislazione vigente del sistema di governance l'implementazione di un significativo piano di comunicazione a livello nazionale e l'evoluzione degli ITS in campus e centri di trasferimento tecnologico rassicurazioni sugli assetti finanziari e organizzativi sono arrivate dal presidente della regione Umbria Katiuscia Marini che ha ricordato come la regione Umbria abbia destinato a queste esperienze importanti risorse passate dai 5 milioni iniziali a 11 milioni di euro per i prossimi bienni fino al 2023 una vera eccellenza che si è posizionata al primo secondo e di nuovo primo posto nella speciale graduatoria degli ITS nazionali stilata ogni anno da istituti specializzati tra gli aspetti più positivi e virtuosi dell'ITS Umbro come rilevato ad esempio da Antonietta Zancane del Ministero Università Ricerca è stata la capacità di costruire relazioni virtuose tra gli attori del territorio che in altre regioni è ancora difficile conquistare proprio il Ministero così anche la consulta delle fondazioni bancarie Umbre continueranno a garantire le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento degli ITS che rappresentano uno dei pilastri del sistema di istruzione del paese proprio sulla futura configurazione dell'ITS Academy ciò fia messo in evidenza l'esistenza di una politica nazionale il cui obiettivo è quello di far evolvere gli ITS Academy in hub che potranno configurarsi come veri e propri centri di trasferimento tecnologico secondo i dettami del piano di sviluppo impresa 4.0 l'obiettivo è ancora quello di consolidare l'ITS Umbria come uno di questi hub un campus diffuso sul territorio e dotato di laboratori tecnologicamente avanzati un punto di riferimento per il centro Italia luogo di contaminazione tecnico-scientifica fra tecnici d'impresa studenti e professori snodo e crocevia di innovazione formazione e tecnologie applicate solo con un'azione corale che coinvolga oltre al MIUR il MISE la regione Umbria le imprese i soggetti finanziatori istituzionali privati per convergere verso un progetto paese a concluso Cioffi sarà possibile raggiungere questo obiettivo ambizioso che vedrà i centri di trasferimento tecnologico diventare un valore aggiunto in grado di creare opportunità di sviluppo socio-economico e culturale per le giovani generazioni e per la collettività a 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 Grazie a tutti.